So che morirò fallendo, ma morirò beatamente. Che tu possa morire fallendo, va bene? Sì, dovresti. Un fallimento beato. La maggior parte di noi qui all'I.M. di Bangalore ottiene successi costanti, almeno in un campo o nell'altro, per tutta la vita. Ma qualche volta l'I.M. di Bangalore è abbastanza bravo a farti sentire che non sei abbastanza bravo. Quindi come gestisci la pressione di essere relativamente nella media? È meglio se qualcuno te lo fa sentire proprio qui, perché potrebbe comunque succedere nella tua vita. Può succedere nel tuo lavoro, può succedere nella tua famiglia. Qualcuno ti dirà, non sei abbastanza bravo. Quindi che te lo dica nono, voglio che tu capisca che nessuno di noi è mai davvero abbastanza bravo. Se hai un'intenzione su larga scala nel mondo, non sei mai davvero abbastanza bravo. La gente continua a dirmi, Sadguru, hai fatto così tante cose, questo progetto, quel progetto. Ti racconterò il mio progetto. Perché proprio l'altro ieri ero sulla collina Ciamondi. Questo è successo 37 anni fa. Sono salito sulla collina Ciamondi e mi sono seduto lì. Senza motivo, traboccavo di estasi. Ogni cellula del mio corpo stava esplodendo. Non sapevo cosa stesse succedendo. Quando parlai con i miei amici più cari, dissero Dimmi, cosa hai bevuto? Cosa hai preso? È l'unica cosa che riuscivano a chiedere. Quando chiese la mia mente scettica, la mia mente disse Forse stai andando fuori di testa. Ma sapevo di aver trovato una miniera d'oro. Qualcosa di fantastico sta accadendo dentro di me senza alcuna ragione. Se mi siedo così e basta, divento così e statico, Quelli che penso siano due minuti diventano sette, otto ore. Lo hai notato? Quando sei molto felice, il tempo semplicemente Vedi, se chiudo gli occhi e li apro, È come se otto, dieci ore fossero passate così. Quindi in quel momento, Semplicemente ho fatto un piano. Questo è il mio piano. Questo è fantastico. Se mi siedo qui e basta, sono completamente beato. Poi ho deciso. All'epoca la popolazione mondiale era di circa 5,6 miliardi di persone. Ho detto, tra due anni e mezzo farò... Ho fatto un piano, un piano specifico di come l'ho avrei fatto. Tra due anni e mezzo renderò beato il mondo intero. Perché non ci vuole nulla. Se semplicemente ti siedi qui, succede. Beh, 37 anni. Beh, forse abbiamo toccato 500, 600 milioni di persone sul pianeta. Ma non è questa la mia idea di mondo. La mia idea di mondo oggi è di 7,6 miliardi di persone. Quindi so che morirò fallendo. Al 100%. E tutto il resto che desidero fare, so che probabilmente non realizzerò nemmeno il 10-15% di ciò che voglio fare. Ma morirò beatamente. Perché vivo beatamente. E morirò beatamente. Quindi è meglio che tu sia un fallimento nella tua vita. Ciò significa che la tua visione è ampia. Se sei un successo, hai un senso della vita costipato. Successo cosa significa? Ce l'ho fatta. Cosa hai fatto? Ho comprato un terreno per la casa. Pensi che sia un traguardo? Ho un lavoro. Ho fatto così tanti soldi. È un modo molto costipato di guardare la vita. Voglio che i giovani la guardino in termini di come possiamo fare qualcosa che non può essere fatto in questa vita. Oh, cosa succederà se non lo realizzo completamente? Se hai lavorato incessantemente eppure alla fine della tua vita il lavoro non è finito, non significa che sei un fallimento. Significa che avevi una grande visione. E' questo che significa. Che tu possa morire fallendo, va bene? Sì, dovresti. Un fallimento beato. Significa che stai andando alla grande, non un miserabile successo. Grazie. Grazie. Grazie.